Dopo dieci anni di attesa, finalmente si concretizza, grazie ai fondi del PNRR, il progetto di una pista ciclabile in via Boschetto, oltre che il tratto di collegamento tra via Boschetto e il quartiere fieristico. Il quartiere sta chiedendo la pista ciclabile ormai da più di dieci anni. Si sono avvicendati diversi progetti, mancazza di fondi, finalmente il PNRR potrà risolvere questo problema e vedere la pista realizzata. C'è stata sempre una stretta collaborazione con l'amministrazione e in questi anni si sono sosseguiti degli incontri tecnici anche per condividere le varie fasi del progetto. Quindi siamo arrivati a questa fase perché è stato concordato quasi tutto per quanto riguarda il tracciato, dalla tangenziale a via Crocile con le scuole elementari più un braccio laterale che raggiungerà la fiera e sarà monodirezionale. Il potenziale problema dei parcheggi è stato preventivamente risolto. In questa zona il problema della pista ciclabile è quello di portare via tutti i parcheggi, però per fortuna il comitato di quartiere per tempo si è mosso e abbiamo ottenuto la realizzazione di questo parcheggio qua dietro di me che consentirà quindi di parcheggiare anche se gli spazi saranno ovviamente persi. L'opera è molto importante in una via dove l'alta velocità rappresenta un pericolo per ciclisti e pedoni. Verranno aggiunti attraversamenti pedonali in sicurezza e il comitato di quartiere ha chiesto che alcuni di questi possano essere rialzati come dissuasori di velocità. Grazie. 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 Grazie.